L'Isola dei Famosi 2018, ecco cosa succederà nella non appuntata. Martedì 20 marzo 2018 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento del reality incentrato sulla sopravvivenza. . Eccoci con un consueto spazio dedicato al popolare programma televisivo L'Isola dei Famosi 2018. In questo articolo scoprirete in anteprima cosa accadrà nella non appuntata che sarà trasmessa sulla rete Ammiraglia Mediaset il 20 marzo 2018. L'arrivo di Valeria Marini in Honduras. Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ottavo appuntamento del reality Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha accolto in studio un ospite speciale, cioè Cancelletto Valeria Marini, che ha annunciato al pubblico che la prossima settimana sarebbe andata in Honduras, con il ruolo di falsa naufraga. . 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